Occorrono più controlli tra via Bellilla e via Senatore Onfuso. Inoltre, sarebbe importante anche l'opportunità di installare in semaforo oppure in altro sistema per regolamentare il traffico. Obiettivo è quello di evitare gli incidenti stradali che in questa zona si verificano con una frequenza. È la segnalazione al comune che parte dall'associazione Raguse in Movimento, dopo aver accolto anche il grido d'allarme proveniente dai residenti del condominio della zona. In realtà, affermano dall'associazione ragusana, il fatto che all'angolo tra le due arterie ci sono spesso auto parcheggiate non contribuisce a scongiurare il pericolo. Infatti, chi esce dal cortile dello stabile rischia quotidianamente un incidente. Sarebbe quindi necessaria una maggiore regolamentazione e per questo un invito viene rivolto al comando della Polizia Municipale con l'auspicio che possono essere presi in considerazione le istanze oltre ad individuare una soluzione. Ad esempio, l'installazione della segnaletica orizzontale che vieti di parcheggiare nella curva.